Il servizio ai privati complimenti, complimenti, ci mandate i vostri figli all'asile, bravi sono per i vostri figli ammazzati, all'asile, alle scuole private, quando si trattano le persone, alle mesi ci diamo anche lo spazzolino da denti, anche lo spazzolino da denti ci diamo, alla mensa, lunghi, lo spazzolino da denti ci diamo, vergognatemi, vergognatemi, ci ha prestato pure le attrezzature, vergogna, vergogna, avete fatto le selezioni, voi ci work no bravo, 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 cambimendi! ...alle tue dir specifically, UCI c'è fatto il tocco a postyre, che dom ha impagno, rischi evitato lo spazzolino da cC non stanno lavorando, sono le apprezzature della mutazione del mare sono i soldi miei, sono quelli della regione ridammi i soldi allora, ridammi i soldi 30.000 euro per ostri se avete mangiato 30.000 euro per ostri se avete mangiato 30.000 euro per ostri di ostri e ora tu la regali agli altri ridammi i soldi allora ridammi i soldi allora ridammi i soldi allora sono i soldi 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 prima lo finiamo e prima verranno ascoltati i lavoratori